Ciao a tutti. Quando ci siamo insediati eravamo consapevoli che il nodo delle infrastrutture, del trasporto pubblico, della ciclopedonalità, dello sviluppo digital era strategico per lo sviluppo del nostro territorio, sia della città metropolitana di Bologna che della regione. Per questo ci siamo concentrati con tanto lavoro, anche duro, per sbloccare quelle opere che da troppo tempo giacevano nei cassetti di qualche ministero o comunque erano infilate in una serie interminabile di discussioni territoriali e abbiamo preso delle decisioni. Abbiamo rinunciato al passante nord di Bologna per l'ampliamento in sede, abbiamo sbloccato il nodo di Rastignano, finanziato il nodo di Casalecchio, cercato di completare il sistema delle infrastrutture della città metropolitana che oggi sono quasi tutte finanziate. Proseguiremo ancora il nostro lavoro da qui a fine mandato perché questo sia davvero un mandato del fare, per cercare di trasformare in cantieri quelli che per troppo tempo sono rimasti soltanto dei progetti. Lo facciamo ovviamente discutendo senza la pretesa di infallibilità, cercando di comprendere anche le ragioni di coloro che sono contrari o che magari vorrebbero migliorare ulteriormente i progetti. Però lo dobbiamo fare, dobbiamo farlo perché ne va dello sviluppo del nostro territorio, della competitività del nostro sistema produttivo e anche della qualità della vita dei cittadini.